Ok, 3, 2, 1, bentornati a chiacchiere da bar con il nostro Fabrizio, che sono io, e il nostro ospite d'onore, che è il mio amico Enrico. Come stai, Enrico? E' un po' stanco, sono sincero, però dai, posso dire abbastanza bene, quindi sto da campione, potrei anche dire. Sto da campione. Dimmi qualcosa di più, come ci sente ad essere campione? E' una sensazione un po' inaspettata in un certo senso, ma so che anche tu mi hai confidato un po' che è un po' insperato, un po' inaspettata, un po'. E' sempre piacevole, chiaramente, è bello che coinvolga, insomma, come deve essere giusto che sia, una nazione intera. Ti sei sentito, come dire, allora io l'ultima competizione che ho visto bene, con tanta passione, era il mondiale, quello che abbiamo vinto. L'ultimo. E poi mi sono perso parecchi campionati europei. Io, tra l'altro, non seguo club, come a differenza tua, quindi il calcio lo seguo di rado e solitamente conosce la nazionale. Però mi sono sentito un po', come dire, è successo così in fretta e bene, abbiamo giocato così bene, nella mia umile opinione di appassionato di calcio, a livelli, non da professionista, però da spettatore, che quasi abbiamo vinto a un certo punto, però mi ha spiazzato. Nel senso che è quasi come è successo tutto così in fretta e ancora non ho elaborato quello che è successo. Mi sembra una cosa incredibile e mi sembra che non sto festeggiando abbastanza dentro di me. Come ti senti? Tu la capisci questa cosa qua? Sì, sì, sì. Ma guarda, io nel famoso confronto, come dicevi tu, con il 2006, forse ci ho messo in mezzo un po' anche l'età, come dire, o la differenza di aspettative. Insomma, il 2006, io ho 22enne, tu immagino qualcosa di meno, ma insomma sempre i primi 20 anni, per intenderci. E quindi la prima grande vittoria per una generazione che comunque, sì, era rimasta un po' scottata da bimbi, da USA 94, dal famoso rigore di Baggio, e nel 98 era rimasta un po' fermata dalla Francia ai quarti di finale, con quei rigori maledetti e via via, insomma altre delusioni, come anche quella finale degli europei del 2000, dove anche lì traditi dal gol del gol, quindi insomma la prima grande gioia, e quindi con un trasporto mondiale e magari vissuto anche molto con quella gioia dell'età. Qui, insomma, sono passati 15 anni, non solo per la nazionale, ma anche per noi che latifiamo, chi saltuariamente, chi più costantemente, però insomma la nazionale è qualcosa di tutti, ed è giusto che sia vissuto anche, non credo debba esistere il concetto di occasionale, quella nazionale, e anche se uno latifa solo una volta ogni quattro anni, ma meglio poco che niente, no? Come si dice. Quindi c'è anche un po' il discorso dell'età, anche io ammetto che non l'ho poi festeggiata tantissimo, ma magari subentra anche il peso del lavoro, della famiglia, della vita di tutti i giorni, e quindi l'idea di fare mattina in piazza forse non ci appartiene più, però insomma il solo fatto anche che siamo qui a parlarne è già un modo per celebrarla in un certo senso, è comunque per festeggiarla. È stato una, per quelle partite che ho visto, specialmente l'ultima, quella in cui abbiamo vinto, è stata un po' una montagna russa di emozioni o quello che è. Come si può descrivere, per noi che probabilmente abbiamo iniziato molto piccoli a tifare la nazionale, quella paura di prendere un gol? Cioè adesso come la... a me tipo agisce sui muscoli, tra le gambe, lo stomaco, c'è questa... non lo so, è il contrario delle farfalle quando uno si innamora, ci sono i scarafaggi nello stomaco, cioè è una cosa strana. Cosa senti tu? Io sento... è interessante sta cosa, abituati da piccoli, attorno alla famiglia penso, quindi è diventato parte di noi questo gioco di sensazioni. Come agisce la paura di prendersi un gol nel latte? Eh guarda, credo molto simile a quella degli altri, penso che effettivamente c'è quella tensione fisica, quella tensione muscolare, quella cosa di intestino che ti prende e ti mette da stringere gli oggetti che hai in mano. Ricordo ad esempio la famosa semifinale contro la Germania del 2006, avevo appena finito questa lattina di birra, però sai quando comunque i momenti in cui diceva mancano pochi minuti alla fine, non è che mi alzo, ne vado a prendere un'altra, ho in mano quella, tengo quella, e l'ho accartocciata a forza di stringere nell'attesa poi dei supplementari i gol di Grosso, del Piero, eccetera. Quindi c'è un po' questa paura che, come dicevi tu, credo un po' derivi anche da tante partite andate male, anche un po' quella scaramanzia, quella porre del tipo oddio adesso se prendiamo gol è finita, che magari mancano ancora 80 minuti, e però senti come dire che se prendi gol inizia un ciclo di sfigo, di sfortuna che in qualche modo porta alla sconfitta, quindi la paura di avere, anche se le cose stanno andando bene in campo, anche se stai vincendo, avere dietro l'angolo l'inizio della fine, quindi ti prende stomaco, gambe e tutto. Ho una domanda per te che ho una curiosità, perché comunque tu te ne intendi più di me di calcio, io lo seguo da spettatore così. È che è uno sport godibilissimo, tra l'altro. Non è soltanto godibilissimo da spettatore, è godibilissimo anche quando non sai calciare il pallone da giocatore, ti dà delle soddisfazioni veloci il calcio, che altri sport non tengono a darti. Le ultime due vittorie che ho visto, l'Italia nel 2006 nella finale con la Francia, quell'Italia lì è l'Italia di oggi. Domanda magari difficile, mi dispiace. Cos'è che avevano loro, che non è l'Italia di oggi, e viceversa? Guarda, quella del 2006 era un Italia obiettivamente che faceva parte di un ciclo di campioni. C'erano campioni, cioè giocatori di talento mondiale, testimonianza nel fatto che c'era un Cannavaro che poi ha vinto il pallone d'oro, ma c'erano giocatori come Totti, Del Piero, che magari il pallone d'oro non l'hanno vinto perché hanno trovato altri giocatori più forti sul loro cammino. Ma insomma, ad esempio, venendo poi da quell'estate che in Italia ha avuto a livello di club lo scandalo di Calciopoli, tutti quei giocatori lì poi sono stati contesi da realtà come Barcellona, Real Madrid, eccetera. Insomma, quindi era veramente un gruppo di talenti che anche singolarmente erano di livello molto alto, che questa squadra non ha avuto, non aveva dei talenti singoli così forti, così brillanti. Quindi da questo punto di vista qui forse è anche stato un capolavoro più grande, per quanto comunque anche far convivere tanti campioni, tante prime donne, può essere impegnativo. Quindi in questo sicuramente Lippi, che era l'allenatore del 2006, ha fatto un grande lavoro di riuscire a mettere tutti alla pari. E non è facile mettere alla pari anche giocatori come Totti, che ad esempio nella sua squadra nella Roma ha avuto tanti problemi con allenatori perché è una personalità che volente o inolente è ingombrante, sia che lui voglia, sia che lui non voglia. Qui invece magari non c'erano queste singolarità così forti, però comunque appunto mettere insieme un gruppo e dare valore al gruppo è un'impresa altrettanto difficile e altrettanto meritevole. Quindi anche Mancini ha avuto una grande impresa, anche qui senza poi andare a considerare che magari in mondiale europeo c'è differenza di squadre eccetera, che poi è poca perché se vogliamo insomma le squadre mondiali che sono un po' più forti rispetto a quelle dell'Europa, probabilmente rispetto a un'Italia possono essere tre, quattro, forse cinque insomma che vanno un po' ad aggiungersi al livello. Quindi in tutti e due sicuramente il tratto d'unione è un gruppo, ma le singolarità erano molto più alte come valore, come tecnica e qualità nel 2006. Chiarissimo, queste cose non ci avevo pensato. La squadra del 2006 era sicuramente una muscle cars rispetto a questa che invece c'era più il gioco di... Non lo so, hai detto benissimo tu, il gioco di squadra c'era anche prima, l'hanno raggiunto, l'allenatore l'ha raggiunto mettendo d'accordo tante prime donne, nel senso di tanti campioni individuali, lavoro difficilissimo, però c'è un piacere diverso? Grandissima risposta la tua, perché mi hai detto, Fabrizio, ma alla fine per un allenatore è difficile anche mettere insieme un cannavaro e un... Fammi un altro esempio, che c'era all'epoca che era un campionazzo... E beh, in difesa c'era Nesta. C'era Nesta. Ad esempio, in attacco eravamo Inzaghi, Inzaghi faceva panchina e... Esatto. Quindi la tua risposta è di un realismo assoluto, però, come dire, ha un valore aggiunto il fatto che questi non erano campioni, o non erano un gruppo di Ferrari e Lamborghini a livello di club e cose del genere, e hanno eccelso comunque... C'è qualcosa che parla un pochettino di più, o diversamente, che non so, che sembra una vittoria ancora più figa. Beh, sì, sì, perché è un po' una vittoria in un certo senso da outsider, ovvero si parlava molto bene di questo gruppo costruito da Mancini negli ultimi due anni. Lui è arrivato alla guida nazionale nel 2018, però appunto da qui, come dire, a candidarsi realisticamente per la vittoria, insomma, non eravamo sicuramente dati tra i favoriti all'inizio, però sul campo ci siamo guadagnati, come dire, questo pian piano, questa nomea di squadra insidiosa, di squadra pericolosa, di squadra che veramente poteva andare a vincere. Quindi ha un valore sicuramente più alto, proprio perché è stato preso e conquistato, pur senza avere le singolarità che le altre nazionali hanno. Adesso non ha brillato sicuramente ieri sera, ma Eric Kane è sicuramente un giocatore ma molto più forte di tutti i nostri attaccanti, così come tanti sono le individualità che abbiamo incontrato più forti dei nostri, lo stesso Lukaku nel Belgio o nella Spagna, diversi. Però alla fine il gruppo è riuscito in un qualche modo a tenere botta, a amalgamare, a costruire un proprio gioco, un gioco non catenacciaro come vuole la tradizione italiana, ma comunque un gioco che cercava il gol, che spingeva in avanti e quindi sì, sicuramente ha un valore più alto da questo punto di vista. E' sbagliato pensare riguardo la partita di ieri da un punto di vista totalmente amatoriale? E' sbagliato pensare che al di là di alcuni individui in Inghilterra, alcuni individui eccellenti come Kane, Sterling, che aveva un'accelerazione che faceva paura, oppure nominiamo qualcun altro che magari era particolarmente eccellente? Beh, Saka. Saka. Non ho una grossa quantità di errori, però sì, comunque sì, hai ragione tu. Milionazzi, tra l'altro. Ho avuto questa l'impressione. Nonostante la prestazione di gioco sia cambiata in due parti, prima l'Inghilterra era maggior parte del possesso di palla, poi l'Italia si è svegliata, ha dominato. Però, in generale, secondo te, si sentiva, si avvertiva nella formazione inglese un gap tra alcuni individui eccellenti e una mediocrità del resto, tra cui anche magari Shaw, che ha segnato, che è stato incredibile. Però, a differenza dell'Italia, che sembrava più compatta, aveva un, come dire, una unità di gioco e di geometria è piuttosto piuttosto grandi. Sentivi tu, nella formazione inglese, al di là di quei individui che abbiamo nominato, un gap nelle prestazioni degli altri, nel, magari, avere fantasia su qualcosa che l'Italia aveva, in questo senso, e non l'Inghilterra? Sì, anch'io, ripeto sempre, non da esperto di calcio, però, effettivamente, l'Inghilterra mi è sembrata meno squadra, da questo punto di vista, e con qualche gap, probabilmente, che con una squadra rognosa, come l'Italia, sono venuti fuori. In altre partite, magari, chiuse per tempo, sullo 2-0, eccetera, allora, certi gap vengono messi da parte, perché la squadra può pensare ad amministrare il risultato, e ieri sera non è stato così, perché, appunto, arrivati in vantaggio di un gol all'intervallo, Mancini ha un po' rimesso ordine, e da lì il secondo tempo si è fatto difficile, e un gol di vantaggio veramente poco, infatti, una volta che poi l'Italia ha pareggiato, è stata partita nuova, e da lì sono venuti fuori alcuni limiti, alcune difficoltà della squadra inglese, quindi, c'è stato qualcosa da questo punto di vista qui, secondo me, ed è emerso, anche poi, anche molto un aspetto psicologico, secondo me, che in queste finali diventa molto preponderante, un po', questa sorta di obbligo dell'Inghilterra alla vittoria da padroni di casa, perché alla fine hanno avuto, come dire, la fortuna dell'assegnazione di una serie di partiti che sono stati tutti giocati in casa in Inghilterra, e questa, come dire, grande latenza di questa mancanza della vittoria, che risale ancora al famoso mondiale del 66, in casa, appunto, in Inghilterra, è diventato quasi un obbligo, io ho visto molti paragoni, ma già da prima della partita, molte analogie con il 2014 dove il Brasile giocava in casa, e il Brasile è chiaramente una delle squadre più forti del mondo, anche nel 2014, sicuramente era un collettivo di altissimo livello con grandissimi campioni, però una volta che è andato sotto di due gol in pochi minuti contro la Germania, non si è più ripreso psicologicamente, ha chiuso perdendo 7 a 1 con la semifinale, dove è stato proprio evidente il crollo emotivo psicologico, io credo che qui non ci sia stato quel crollo emotivo psicologico, però a un certo punto l'Inghilterra abbia sentito realmente in campo la pesantezza di questo obbligo alla vittoria, dove veniva l'Inghilterra è un paese sicuramente non scaramantico, perlomeno non scaramantico tanto quanto lo siamo noi in Italia, dove quindi veniva già data per certa questa vittoria del fatto che comunque si sarebbe travolta anche l'Italia, si sarebbe riportato a casa il calcio come canta come dice la famosa canzone che è diventato ancora un po' la loro notti magiche se vogliamo questa It's Coming On e quindi questo peso si sia sentito e abbia un po' influenzato il resto della partita, ma non è un caso, spesso l'ultima formazione che ha vinto gli europei in casa è stata nell'84 la Francia, quindi sono quasi 40 anni che la squadra di casa per un motivo per l'altro non vince, perché c'è un peso psicologico che è difficile da gestire e l'Inghilterra credo abbia pagato anche questo, probabilmente in altre condizioni forse avrebbero potuto batterci, lì invece paradossalmente il fatto di giocare in casa una finale con questa aspettativa una certa ha pesato. Prima di farti un'altra domanda chiarissimo, devo confessarti che ho visto negli anni come dire non hanno vinto da un bel po' inglesi e se non fosse stato se l'Italia non avesse giocato in finale contro i loro avrei tifato per loro perché avevo una serie di partite tra cui una vecchia con l'europeo e il Portogallo in cui c'era magari molta scorrettezza quella con Rooney e adesso magari Scolari non so se era un europeo quindi lo so quanto volevano vincere e lo so quanto ci mettono nei pub quindi se l'Italia non avesse giocato avrei probabilmente tifato per l'Inghilterra. Fatti fare una domanda e qua sta la vera differenza tra chi segue il calcio probabilmente chi lo segue da turista come me io ti devo confessare una cosa nella mia infarinatura di aver visto le partite dell'Italia di questo di questo europeo sono rimasto particolarmente sorpreso all'inizio quando hanno giocato meglio di noi nella parte iniziale non me l'aspettavo Fatti se l'aspettava è rimasto sorpreso non so se sono rimasto guarda sono rimasto sorpreso anch'io un po' onestamente pensavo che all'inizio fossimo un po' più solidi invece probabilmente in quel momento lì c'è mancato un po' di non so di concentrazione di qualcosa siamo stati un po' più ballerini e l'abbiamo pagata poi nel primo tempo perché anche per noi penso andare subito in svantaggio l'aspetto psicologico non me l'aspettavo perché di solito invece eravamo stati forti in questo squadre comunque Mancini la sua squadra insomma nelle partite precedenti era sempre riuscito a mantenere un certo ordine ma anche in tutta la fase di qualificazione infatti non eravamo mai andati in svantaggio quindi non mi aspettavo così in fretta e così da un'azione tra virgolette banale semplice insomma chiaramente è stato un bel gol da parte di show però insomma un cross che non sembrava così insidioso una situazione un po' veloce e quindi questo anche io non me l'aspettavo però è anche in questo credo la forza di determinate squadre che sanno risollevarsi sanno reagire a delle situazioni difficili perché appunto non è la prima volta di squadre che magari hanno un cammino fino anche alla finale stupendo e poi dopo a un certo punto crollano eccedono e sbagliano quella partita ma per vincere un torneo ad eliminazione non bisogna sbagliarne neanche una quindi invece in questo Mancini sì primo tempo un po' di difficoltà però poi difficoltà rimanendo sotto di un gol e il secondo tempo una ripresa quindi insomma anche in questo le squadre le squadre forti sono forti anche in questo c'è qualcosa purtroppo non l'abbiamo vista assieme queste partite perché sarebbe stato bello vedere qualcosa assieme però c'è qualcosa che ti ha fatto ridere di tutto sto europeo ma cosa intendo fammi chiarire la domanda la domanda qualcosa tipo di magari tipo negativamente ridicolo qualcosa tipo che quasi ha generato sorpresa un po' all'atti che è rimasto sto agitando le mani al cielo adesso per chi non ci vede c'è qualcosa che ti ha fatto ridere o che magari era una stupidità o quello che è non lo so una stronza guarda due episodi così simpatici probabilmente guardandoci bene ce ne sarebbero diversi il primo è un po' come dire tutta la l'epopea del tiragir di di insignia no? questo tiro a giro che il campano napoletano tira a giro questo tentativo continuo in sigla noto per cercare sempre questo tiro questo gol e magari in serie A durante la stagione gli riesce più volte perché comunque chiaramente ci sono anche degli avversari non sempre di livello rispetto a certe difese che si possono trovare invece gli europei in una situazione già un po' più difficile ci ha provato diverse volte ma toppando diversi tiri quindi sembrava quasi un po' questa favola questa non so come dire questa roba dell'eterno tentativo di questo gol come se dovesse farlo per forza così non ci fossero alternative che però ha anche avuto il suo risvolto in cui quando appunto contro il Belgio è riuscito questo gol del 2-0 che è stato importante appunto perché la partita si è vinta 2-1 quindi un gol fondamentale è stato uno dei segnali secondo me è un momento in cui anch'io ho detto beh allora se insignia fa gol così ce la possiamo fare di questo è il primo simpatico il secondo la caduta di immobile in area con tanto di simulazione di dolore non so subito dopo il gol si è rialzato facendo finta di niente neanche un tentativo di dire di fingere un dolore che man mano passava nel mentre ma proprio era una palese simulazione di infortunio o di qualcosa poi anche qui niente di scandaloso perché insomma siamo anche bravi noi a volte a juntare i riflettori noi italiani su determinate situazioni quando nel calcio si è sempre fatto così e si fa al di là che sia giusto o sbagliato che si possa condannare in sé per sé però come dire all'improvviso buttiamo i riflettori su uno dei nostri su un qualcosa quando invece bisogna anche come dire riconoscere il fatto che ok è vero che l'Italia è di tutti ed è giusto anche che ognuno esprima il proprio parere su certe situazioni però c'è anche un modo di fare nel calcio c'è una serie di cose di non dette un modo di interpretare le cose pensa ad esempio al fallo di Chiellini di ieri sera punito con il giallo in cui è trascinato per la maglia è chiaro che in sé per sé è un gesto se vogliamo antisportivo però sono i cosiddetti falli tattici ci sono anche nel basket a volte sono puniti con antisportivo a volte no a seconda di come vengono fatti senza entrare nel merito della cosa e quindi insomma bisogna anche giudicarli per quello che sono sono falli che si fanno si spendono non c'è cattiveria in questo tipo di falli posso farti una domanda esattamente su quella roba lì del fallo tecnico di Chiellini che probabilmente ci ha risparmiato un gol perché c'era in quel senso lì però una cosa che non so lui ha preso un giallo giusto per quel fallo avrebbe è possibile nel regolamento calcistico di prendere un rosso per una cosa che c'è penso di sì direttamente no? Sì diciamo che il regolamento adesso vi vado un po' a memoria perché non lo conosco bene parla di chiara occasione da gol quindi se quel gesto lì non fosse stato vicino alla linea laterale ma più vicino alla porta più vicino all'area e fosse una chiara occasione da gol allora lì sarebbe stato rosso diretto in questo caso eravamo molto lontani dalla porta è chiaro che sarebbe stato da solo però doveva correre arrivare davanti tentare il tiro quindi non era chiara occasione da gol nel senso in cui chiara occasione da gol penso che la definizione sia proprio qualcosa in cui pochi passi e uno tira e ha un gol dove come dire 50-50 può entrare lì era ancora molto lontano è chiaro che tutti ci hai immaginati che questo qui se va avanti per il tipo di giocatore che è appunto come hai detto prima Sterling un giocatore velocissimo era Sterling giusto? ricordo bene? o era Sterling o era l'altro Saka Saka forse sì comunque parliamo sempre di un giocatore molto veloce con un senso del gol e quindi che avrebbe potuto realizzare facilmente però da regolamento non si può andare a dare così con interpretazione quindi il giallo penso che sia stato giusto la tentazione è troppo grande sono tornato da cena di fronte alla tv in cui naturalmente la maggior parte del telegiornale era dedicato alla vittoria allora cerco di metterle cerco di metterle tutte in fila uno scontento generale da parte dell'Italia rappresentato di certi telegiornali rispetto al il comportamento di certi hooligans che avrebbero picchiato degli italiani ho sentito di tutti i colori ne ho sentito magari anche dei fischi allora un comportamento non non sportivo da parte dell'Inghilterra alcune di queste critiche le metto in prospettiva nell'ambito calcistico e non trovano tempo secondo me alcune di queste critiche che abbiamo fatto all'Inghilterra posso fare un esempio i fischi durante l'inno non lo so ci sono delle cose che nella mia ignoranza da amatore calcistico per esempio ci sono certe esagerazioni che che esistono nell'ambito calcistico e fanno parte dell'ambito calcistico ed è bene che esistano soltanto nell'ambito calcistico perché entriamo nello stadio facciamo è un po' una fiction di una realtà che fuori dall'ambito calcistico sarebbe un nazionalismo magari deleterio ma io le adoro queste cose tradizionali del calcio anche le esagerazioni quindi quelle che non erano esagerazioni come di gente che si è messa a menare degli italiani o quello che è le trovo come dire inerenti al sistema al mondo calcio atti quanto non è stata sportiva quante queste critiche sono fondate è soltanto la voglia di chi ha vinto di rifarsi sul non lo so che ne pensi ma guarda c'è molta esagerazione in questa come dire commento postumo secondo me per quanto gli elementi di base da cui partire ci siano ovvero il fischiarellino è un qualcosa che non è la prima volta che accade è stato fatto anche dagli italiani verso la Svezia il famoso spareggio che abbiamo pareggiato però l'andata l'avevamo persa quindi siamo rimasti fuori dai mondiali è vero che lì ad esempio c'è un gesto di un buffon che da capitano è un buffon figura che può essere discutibile sicuramente possiamo discutere su tanti aspetti però su certi aspetti ha sempre preso in mano un certo tipo di cose quindi lì durante l'inno svedese mentre gli italiani fischiavano lui si sbracciò dicendo no 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 insomma dicendo non si fa non si fa per contrastare questa cosa però è vero questa poi è una finale di un europeo non è che dobbiamo condannare il capitano degli inglesi per non aver fatto questa cosa qui è qualcosa che non ci dovrebbe stare capita però ragioniamo anche poi su quello che è il pubblico cioè parliamo di 60.000 inglesi contro 6.000 italiani eccetera qualcuno è esagerato magari quindi sì lo vedo come qualcosa di sbagliato ma insomma non è caduto il mondo sono cose che purtroppo capitano e a volte le abbiamo fatte anche noi quindi questo è il primo aspetto quindi secondo me il secondo vado un po' per ordine di il gesto della medaglia di togliersela capita in questo nello sport altro l'hanno fatto i diversi squadri recentemente ma il Napoli qualche anno fa nella premiazione della Coppa Italia dove si è sconfitto in finale non si presentò alla premiazione ad esempio che è anche più grato sempre il Napoli sempre il Napoli è un gesto che capita nel caso forse anche in altri sport l'idea di togliersi la medaglia come dire l'idea di rifiutare la sconfitta di non voler accettare una premiazione vista come un'umiliazione è brutto da vedere però insomma non cade nessuno se vogliamo può essere un po' mancanza di stile però non dobbiamo come dire ognuno la prende come si sente di e fine ecco magari faremo i complimenti a chi accetta la sconfitta meglio rispetto a chi la prende così e niente ecco sull'episodio chiaramente delle violenze che ci sono state è un brutto episodio ovviamente a prescindere chiaro qualche testa matta qualche tiposo caldo c'è stato è vero che probabilmente noi italiani siamo da un punto di vista di nazionale sempre meno inclini a questo tipo di cose però insomma anche qui stiamo parlando non stiamo parlando di un popolo intero che ha fatto queste cose stiamo parlando di un gruppo di violenti è chiaro che l'Inghilterra tradizionalmente culturalmente ha sempre avuto questo tipo di problema come nazionale parlo sempre più che noi italiani e c'è stato anche questo episodio ecco chiaro che sono episodi ovviamente da condannare però non so come dire impacchettare il tutto insieme per mettere un qualcosa e dire ah l'Inghilterra non è capace e poi fare una colpa come dire a una nazione ma insomma io credo che ci siano tantissimi inglesi che sono stati al pub ora se l'ho partita sbronzi siano usciti insultando il mondo e si è finito lì e come avremmo fatto esattamente noi italiani al bar invece che al pub quindi c'è stato scusa no no quindi insomma diciamo che sì gli episodi singoli ovviamente possiamo parlare possiamo dire qualcosa e credo che nello specie però ecco la costruzione mediatica che poi viene fatta di creare un tema messendossieme tanti pezzi diversi si è eccessiva ecco stando tutto quello che hai detto mi ha fatto un effetto particolare sentire il presentatore del telegiornale addirittura fare il cazziatone all'Inghilterra non solo mandare le notizie magari con l'ipocrisia che il servizio ne parlava magari il servizio commentava e giudicava l'Inghilterra a livello velato un po' così così mi ha fatto un effetto strano Atti come si chiama Giorgino mi ha fatto un effetto strano il cazziatone del conduttore del telegiornale mi ha fatto un effetto di non so come spiegartelo cioè la frecciatina all'Inghilterra di Giorgino e non solo lui sono sicuro altri pure mi ha fatto un effetto strano di come dire ha fatto sembrare tutto quello che hai descritto tu ancora più esagerato ancora tipo come la rivalsa di chi ha vinto non lo so sì 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 esatto mi sembra boh questa morale non so è chiaro che è un gesto ma basta vederli anche senza conoscere un po' che come dicevo prima è importante conoscere un po' il contesto e tutto per poter capire meglio però comunque il gesto di una pena che è stato premiato tra l'altro anche se vogliamo per un risultato importante perché è la seconda finale di una competizione di questo livello per l'Inghilterra nei suoi non so quanti anni sono 90 anni di storia 100 anni di storia calcistica eccetera quindi comunque è il secondo risultato più alto mai ottenuto dall'Inghilterra c'è comunque una cosa altissima di cui sicuramente andare fieri e l'idea di qualcuno vuol dire mettersene a togliersela subito è chiaro che è brutta però stiamo parlando ancora di qualcosa a caldo insomma giocatori che hanno appena disputato una finale magari anche giovani e sono convinto che alcuni gli stessi giocatori tra dieci anni non rifarebbero la stessa cosa magari direbbero insomma ho sbagliato in quel momento lì ma parliamo di niente di un gesto insomma andare qui impacchettarlo farla morale tra l'altro come dicevo prima mescolare anche persone che sono andate a menare della gente mi sembra un po' eccessivo soprattutto come dicevi tu poi dei telegiornali che insomma dovrebbero anche garantire un po' di obiettività e parlare magari degli episodi scollegandoli ecco prendendoli singolarmente per quello che sono ma mi immaginavo addirittura una divisione dei doveri tipo il conduttore conduce quello era Giletti quello che comunque un'ultima domanda che però non è mai l'ultima su immaginati i giocatori di calcio no? tu vai comunque hai a che fare per lavoro con personalità sportiva o quello che è poi comunque ti piace lo sport quindi un po' ti serve una quantità ridotta di immaginazione rispetto a me immaginati i giocatori di calcio comunque a livello sportivo un po' come era successo a Jordan che non mi ricordo saranno i jazz che non avevano stretto la mano dopo che avevano perso quindi potrebbe essere comparabile al fatto che quelli sono tolti la medaglia mettiamola così quindi partendo dal presupposto che da sportivo da giocatore tu non sei contento di quel gesto lì ok? che sembra piuttosto possibile come cosa il fatto che tu non sia contento cosa ne penseresti guardandoti il telegiornale e tutto quel teatrino imbastito sulle su quanto l'Inghilterra non sia sportiva dal calciatore sentiresti tu immaginati calciatore un'esagerazione o il fatto ci troveresti piacere di rivalsa o penseresti che addirittura parti in qualche maniera passi dalla parte del torto esagerare così non so tu sei scontento perché loro non hanno dimostrato rispetto dentro il campo e ci stava benissimo ma quando guardi quando torni a casa dopo che hai vinto la coppa e accendi la tv e vedi quello che il teatrino che hanno fatto i giornali o quello là come ti sentiresti da giocatore da calciatore? Da calciatore credo che in quel momento lì in campo prevalgano le emozioni della vittoria e quindi anzi forse quel momento lì della loro premiazione lo hanno neanche visto non hanno neanche proprio come si direbbe qui da nostra parte cagato la mossa è vero pure questo probabilmente il giorno dopo guardando sì è un gesto che appunto può dar fastidio può non piacere però ho vissuto poi a freddo tra l'altro appunto sono calciatori quindi tra l'altro ho anche letto di qualcuno ad esempio mi sembra Florenzi che con la Roma una qualche finale insomma fece la stessa cosa anche lui di togliersela subito dopo quindi secondo me da calciatori capiscono di più quello che può essere l'impeto comunque a caldo quel momento e per quanto non possa piacere visto con distacco il giorno dopo la sera dopo sì insomma ci si passi un po' sopra ecco senza troppi problemi insomma come deve essere poi che sia ok chiarissimo e infatti qualcosa che un elemento che mancava nella domanda è il fatto che ho tralasciato il fatto che noi abbiamo appena vinto chi cazzo se ne fotte che non è una cosa è una cosa non marginale senti un po' volevamo parlare possibilmente consigliare un film che abbiamo visto da poco disponibile su Netflix Netflix se non sbaglio di Carne Secchi che è il nome del regista il film si chiama La partita ci dici ci dai qualche ci dici qualcosa su sto film sì è un film del 2018 appunto reperibile su su Netflix anche se in realtà poi leggo che il film è uscito nel 2020 a quanto pare se non so bene o male le fasi che hanno portato a a questa genesi comunque film ambientato nella periferia romana dove si sta giocando una partita una partita di squadre giovanili e questa partita diciamo ha diversi destini intrecciati con quello che accade in campo quindi tutto il film ci mostra in parallelo a questa partita che si sta giocando le storie dell'allenatore di una delle due squadre del presidente della famiglia di uno dei giovani calciatori e di tante altre persone insomma che gravitano intorno a questo piccolo evento che in sé per sé insomma non ha o perlomeno non avrebbe alcuna alcuna importanza parliamo di una partitella insomma di un torneo giovanile di poca importanza anche a livello tecnico insomma non parliamo di giovanili di grandi squadre sono proprio squadrette di ragazzi che probabilmente arrivati ai 18-20 anni smetterebbero e andrebbero a fare altro nella vita e quindi il film poi ci mostra bene o male anche tutti tutti questi tutti questi teatrini paralleli intrecciati o questi dietro le quinte ai fatti che avvengono in questo pomeriggio caldo di maggio presumo insomma di fine stagione e in parallelo appunto c'è questa radiocronaca che racconta quindi è anche un contesto ambientato in realtà potrebbe essere ambientato ai giorni nostri ma un po' la fotografia un po' i costumi un po' questa telecronaca ci fa capire che è ambientato nel maggio 2002 il famoso 5 maggio che ha visto l'Inter perdere una partita fondamentale e quindi perdere lo scudetto a favore poi della Juve quanto era godibile l'inizio per due motivi appena me l'hai consigliato tu tra l'altro parte con un'inquadratura mobile durante la partita che dà tutto il fiato tutta l'energia e tutte le parolacce tipiche quindi totalmente realistiche da questo punto di vista dell'azione del gioco di ragazzetti della periferia romana che questa telecamera che si muove in una maniera favolosa a me mi è piaciuto subito e c'è anche cos'è dei 883 la dura legge del gol ma cantata accelerata tipo per pogare tipo una cosa un po' oi un po' oi tipo no? ti ricordi all'inizio c'era la dura legge quanto era figa quanto era figo quell'inizio quella credo adesso non sono sicuro ma dovrebbe essere la versione di credo si chiamino 666 qualcosa di una cover band che rifà le creazioni degli 883 in versione un po' hardcore rock metal insomma con sonorità molto più molto più rock con un ritmo molto più come dicevi tu insomma vicino vicino al punk o allo ska core comunque e quindi insomma questo questo inno anni 90 sempre legato appunto al mondo del calcio al mondo del calcio come metafora di vita calcio di periferia portato in questa versione bella carica si rende rende parecchio così come la scena che hai che hai descritto tu profuma molto io ho sentito molto molta proprio anche al linguaggio utilizzato nel film che è veramente molto molto vivo e al tempo stesso veramente realistico e anche proprio questo senso perenne di di fastidio di disagio di caldo di sudore quasi vedere queste come dire questa fotografia molto molto assolata proprio da trasmettere il caldo che ci può essere nella periferia romana verso maggio però con persone con queste camicie mezza aperte questo sudore ha dato proprio quell'idea di fastidio quasi di questa partita in cui alla fine come dire attraeva tanti destini pur in sé per sé contando nulla e quindi sentivo proprio il peso di queste vite attaccate a questa partita e la fatica di dover essere attaccata a una partita in sé per sé priva di senso con tutto rispetto per i ragazzini che ci giocano perché in realtà il calcio a quei livelli dovrebbe essere ancora un qualcosa di formativo dove magari ok cresce il campione ma prima del campione cresce l'uomo e invece lì sembrava che l'uomo fosse accantonato a favore del calciatore però un calciatore infimo perché sono chiaramente di un livello pressoché nullo lì forse il più bravo riesce a fare due pallonate in eccellenza come si dice quindi ma infatti su questa nota qua che hai detto tu è quanto nel senso quando ho cominciato a vedere i massaggiatori quando ho cominciato a vedere i massaggiatori ricordo a tutti da a livello amatoriale di uno che non conosce niente di come funziona il calcio a livello più profondo quello che è hai appena detto che comunque è un livello piuttosto misero con la partita lì periferia e quello che è l'unico modo che mi spiego i massaggiatori sono degli entusiasti a ti sì 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 è così che funziona? c'è chi lo fa per hobby c'è chi lo fa per arrotondare quei due spicci ma sempre legati a questioni del tipo non lo so il padrone il proprietario anche la palestra dove tu puoi lavori fai altro e quindi tra virgolette devi sei costretto a fare qualcosa in più insomma è proprio il livello in cui c'è magari chi lo fa per hobby per passione chi lo fa per passione nel senso passione di Cristo per fatica perché deve ma non non c'è una reale nel senso è tutto un dopo lavoro un prestare ore della propria vita perché si deve perché si vuole in nome di qualcosa di più di più alto forse ideologicamente che quello che c'è in campo ecco sì sì cos'altro ti è piaciuto del film beh allora Pannofino a me piace molto come attore e in quel film lì ho proprio visto la fatica dell'uomo che cerca come dire una sua realizzazione prima di tutto sportiva e poi anche di umana attraverso un qualcosa in cui come dire si rende conto che in realtà in quella partita lì poi non c'è soltanto quella squadra quella stagione ma in un certo punto capisci che c'è un po' tutto tutto il suo credo tutti i suoi valori e quello mi è mi è piaciuto molto proprio la difficoltà dell'uomo di che è una cosa che c'è spesso nello sport di ritrovarsi a un certo punto come dire a dover mettere tutto anche se magari hai già fatto 30 anni al tuo miglior livello però in quel momento lì con la partita ti ritrovi a giocare un po' tutto quindi quello mi è mi è piaciuto molto come come figura come c'erano delle belle scene di dialettali romane che facevano piuttosto ridere ma anche fisse un pochettino lunghe tipo non lo so insomma il dialetto romano adesso non dico quali scene sono perché non voglio rovinare il film però se lo guardate vi trovate delle situazioni dei passaggi del copione che fanno piuttosto ridere in romanesco sempre con quel rischio comunque con un rischio minimo di finire nell'italianità senza accento che è sempre pericolosa nel cinema italiano secondo me la mancanza di accenti regionali o quello che è si entra in un territorio che a volte è un po' troppo affettato secondo me quindi questo film ne è rimasto fuori da questo punto di vista nel senso un attimino per dirci a livello amatoriale nelle mie poche partite di calcio in cui venivo usato per mordere perché non in grado di calciare di collo insomma puntera a Cagliari la chiamavano puntera anche con lo slay quando tu calci di punta quindi mi mandavano tipo a mordere gli altri e ripeto il calcio ti permette di poterti divertire e trovare lo spirito di squadra senza saper fare nulla è una cosa favolosa naturalmente calcio a sei perché il fiato non c'era quanto nella fortuna nostra che abbiamo vissuto il calcio in maniere diverse quanto è bello lo sport e il calcio in particolare lo spirito di squadra lo spirito di rivalza è una finzione però è verissima è una cosa favolosa io non prima di iniziare a parlare adesso chissà dove mi vado a infilare non so neanche come ne esco da questa cosa qua aiutami tu Atti che cacchio di le cose più belle del mondo lo sport di squadra la musica non diciamo l'amore perché è scontato fa schifo Atti quanto è bello lo sport di squadra e il calcio quanto è bello beh molto ma prima hai detto un punto effettivamente molto importante il calcio è sempre spesso criticato ma ha ragione anche perché effettivamente genera una serie di partite che sono veramente noiose lunghe da guardare da casa in realtà già guardarlo allo stadio l'effetto è un po' diverso per quanto poi possiamo anche parlare del fatto che tante volte gli stadi in Italia non sono adeguati per o comunque non generano quello spettacolo un po' che potrebbero generare come magari a volte capita all'estero penso all'Inghilterra con la Premier League e questo sicuramente è un dato di fatto ed è vero nessuno vuole non siamo qui a incensare il calcio così in maniera gratuita però quello che dico è verissimo ed è spesso sottovalutato il calcio è uno degli forse lo sport più semplice del mondo quindi chiunque può capire che c'è una palla va calciata e va calciata in porta e bisogna fare gol e credo che questo sia più facile non possa avere un qualunque altro sport adesso abbiamo visto recentemente in Italia le performance di Berrettini che è arrivata in finale di Wimbledon o la nazionale italiana di basket che ha vinto il torneo preolimpico e si è qualificata per le Olimpiadi però tutti questi sport hanno un livello di complessità un pelo più alto il capire perché la pallina da tennis deve andare in un pezzo di campo e non in quell'altro il basket il fallo il doppio palleggio c'è un livello più alto che il calcio in questo non ha e quindi diventa veramente lo sport che poi il motivo per cui penso sia il più amato nel mondo alla fine non è solo un fattore come dire culturale del fatto che qualcuno l'ha diffuso ma del fatto che veramente bastavano due sassi a fare la porta un pallone di stracci o anche una bottiglietta di plastica e si giocava a calcio e come hai detto tu è facile anche se sei un pippone cioè stai lì corri appena ti arriva davanti molli un calcione e poi giocare a calcio negli altri sport è difficilissimo trovare un sport dove si possa veramente partecipare con questa semplicità sport di squadra perché noi ci parliamo magari di sport individuali dell'atletica della corsa del ciclismo è un altro discorso ma sport di squadra anche chi non è capace o è negato fisicamente per vari motivi può dare una mano e banalmente può essere fare pressing dar fastidio correndo davanti a uno che è già un elemento io sono della scuola della generazione in cui i pipponi venivano messi in difesa che anche lì c'è una scuola di pensiero di solito il pippone viene messo in avanti perché fa meno danni però quando si gioca da bimbi molte volte i pipponi vengono messi dietro perché sono tanti e fanno gruppo e quindi l'attaccante forte dell'altra squadra che c'è sempre il fenomeno il Cristiano Ronaldo della situazione fa fatica perché li deve dribblare tutti e magari lui ne può dribblare non so senza problemi due, tre, quattro ma quando se ne trovate cinque o sei a un certo punto statisticamente trova quello che gli ruba il pallone e questi elementi credo che siano siano quelli che alla fine portano un valore aggiunto al calcio che poi viene fuori anche in film come come questo poi adesso non di me mi ricordo esattamente il pezzo della domanda che mi hai fatto ma spero di aver dato una risposta esaustiva a questo punto non me la ricordo neanche io avevo un'altra domanda passiamo la domanda dopo abbiamo già tornando giusto per comunque dare corda a quello che hai detto tu lo sport più basico più che ha meno bisogno di cose per goderselo a diversi livelli da calciatore sega pippone o pippone ci sono tante di parole pippo pippone sega puntera poi c'è tutto un vocabolario regionale di tipo in sardegna quello che non mi ricordo forse non è vero non è così quello che non passa mai la palla che è la dogana italiana però è anche tipo è un solero quindi si può parlare per mesi però le soddisfazioni nel giocare di squadra e soprattutto quello che c'è stato nella partita dell'Italia di ieri nella finale quell'ingrediente indispensabile come dire senza prezzo che è essere sotto di uno e crederci ancora e fare squadra e come dire e poi soprattutto la cosa bellissima di questa nazionale passare la palla passare la palla cioè questa è una cosa che anche a livello materiale a Cagliari degli anni 2000 o quello che è quando a me passavano la palla quelli che sapevano giocare perché ero quasi ero l'unico che non si poteva giocare così ma quando me la passavano credevano in me perdevano un'opportunità loro di segnare stando sotto aveva un valore inestimabile per me questo passaggio c'era tanta di quella come dire di quella nobiltà in questo passaggio che che il calcio proprio insomma vabbè una domanda e poi magari ci muoviamo verso il termine Enrico è appassionato di Formula 1 piuttosto tanto riesce a godersi una una gara di Formula 1 in una maniera che è un pochettino più profonda a livello di costruttori cos'è il genere quindi non insomma come il calcio lo segue abbastanza segue anche la Formula 1 ho una domanda stupidissima che però è il vantaggio di queste domande stupide è che le possono fare soltanto gli stupidi nel senso che magari la risposta diventa interessante perché deve avere le palle di fare una domanda così stupida però magari la risposta diventa interessante una persona intelligente non farebbe un paragone del genere com'è che ti fa sentire il calcio quando lo segui e che differenza c'è con la Formula 1 quando la segui nel senso cos'è che ti dà il calcio e cos'è che ti dà la Formula 1 in poche parole in livelli positivi che tipo di sentimenti ti dà e come cambia la passione dello spettatore beh sì è un paragone un po' difficile nel senso la partita alla fine quando uno segue il calcio segue delle partite o comunque è data da un insieme di partite mentre la Formula 1 è data da una gara in cui corrono tutti e sono tutti lì quindi come dire mentre tu per seguire tutta la Serie A dovresti guardarti dieci partite ogni domenica la Formula 1 guardi una gara e sono tutti quindi ha una fruizione un po' diversa nel senso in cui la Formula 1 adesso in Italia forse abbiamo anche qui un unicum della situazione in cui tifiamo la Ferrari però è molto più raro il tifoso della scuderia ci si appassiona il pilota la situazione ma come dire l'appassionato di Formula 1 di solito segue tutta la Formula 1 in Italia nel calcio si tifa di solito una squadra poi è chiaro che ci sono appassionati che comunque seguono un intero campionato o più campionati o eccetera però insomma è già c'è già un po' questa questa differenza qui quindi domanda su questo posso posso interromperti ti chiedo ho già scoperto una cosa a cui non ho mai pensato lo spettatore della Formula 1 dato comunque per assunto che abbia una scuderia di preferenza quindi mettiamo che è una scuderia di preferenza comunque ha un approccio in cui come dire ha qualcosa che il tifoso del club non ha nel senso che ha una visione della competizione meno accanita del calcio da quello che questa è una conclusione che faccio io non lo so è possibile sbaglio già o è più come dire globale tra virgolette nel senso mentre non lo so tu stai tifando per la squadra che è in lotta per la salvezza che è sedicesima si gioca uno scontro tra la sesta e la settima che vanno per la zona UEFA nel calcio magari te ne puoi fregare a un certo punto nella Formula 1 è una corsa se tutti lì nella stessa pista magari sì gli altri sono davanti però sono 30 secondi c'è un incidente una safety car te li ritrovi attaccato o magari c'è un doppiaggio quindi comunque non puoi permetterti neanche di dire io tifo per quella scuderia lì chi se ne frega degli altri gli altri sono lì sono in pista consumano lo stesso spazio che consuma la tua squadra quindi devi per forza considerarli è impossibile ignorare le altre scuderie quando guardi la Formula 1 vuoi anche numericamente perché sono se vogliamo una squadra giocano in 11 a calcio la Formula 1 ogni scuderia ne ha due quindi già numericamente si è molti meno e si è più portati a seguire tutto però sei proprio costretto a valutare le cose in un insieme mentre il calcio puoi anche ad esempio con certi appassionati di una squadra non so chi ti fa per la Juve magari ti dice ma io il Milan l'ho visto due volte quest'anno quando ha giocato contro la Juve nella Formula 1 un po' perché segui con una regia internazionale che inquadra prima uno poi l'altro eccetera è impossibile seguire su una scuderia quindi da questo punto di vista sei proprio costretto ad abbracciare in maniera meno integralista e più globale tutte le scuderie quindi tutto quello che avviene quindi lo sport fa il tifoso assolutamente adesso l'ultima l'ultima come dire raffica di domande stupide i proiettili o quello che è è possibile Atti è capace se vai in un baretto dell'Emilia a capire da come si presenta una persona se un tifoso di motociclismo quando intendo motociclismo quello magari di non so come chiamarlo come lo chiamo quello di Valentino Rossi MotoGP ma puoi dire motociclismo direi che la MotoGP è la classe regina delle moto quindi è giusto pensare che il tifoso della Formula 1 per natura è difficile da individuare a stereotipi apparenza o quello che è il modo in cui parla rispetto a un tifoso di MotoGP in Italia beh sì il tifoso della Formula 1 soprattutto in questi anni in cui va un po' meno di moda è più difficile perché appunto si maschera un po' può essere un po' il nerd può essere eccetera quindi è difficile riconoscere dall'abbigliamento o dall'apparenza quello di MotoGP diciamo che un po' di più segue un po' di più uno stereotipo poi anche qui non è detto perché a volte magari si trova il motociclista che entra vestito e c'è chi magari adora le moto ma non guarda la MotoGP o quello che magari segue la Superbike noi poi in Emilia abbiamo sempre questo dualismo perché la Ducati che sì è anche in MotoGP però è tradizionalmente molto più forte nella Superbike questa categoria c'è un ero di derivazione americana dove le moto sono molto più grosse come cilindrata dove tra l'altro ha vinto diversi titoli viaggi un po' di anni fa e quindi a volte c'è anche chi segue come dire un po' lo snobismo e anche qui se vuoi mi collego al tuo parallelismo di prima c'è anche qualcosa in cui nel calcio è difficile cioè si segue un po' a livello nazionale quindi in Italia si parte dalla Serie A poi c'è chi ci aggiunge non so le nazionali che più o meno poi c'è chi magari io guardo la Premier League ogni tanto trovi un po' l'esperto di calcio sudamericano però non è che trovi quello che no no io non guardo la Serie A io guardo il calcio sudamericano è difficile invece nel motorsport c'è chi li segue tutti chi sono alcuni e chi magari ha un po' questi peccati tra virgolette di esterofilia o comunque di dire non seguo quello ma seguo quell'altro e in Emilia li abbiamo un po' perché siamo un po' la motor valley cosiddetta in Italia e quindi sono tante passioni comunque per finire siccome abbiamo fatto se non sbaglio per chiudere voglio farti un'ultima domanda e il Napoli era un po' protagonista di questa conversazione perché abbiamo prima commentato la parte quella che faceva un po' ridere di un calciatore che a mio avviso in ricordi passati mi aspettavo di più in questo europeo che era Insigne perché io non lo so Insigne l'ho visto non l'ho visto nel passato e mi ero fatto un'idea incredibile di questo giocatore qua che non è non ha rispettato le aspettative nell'europeo sempre da spettatore amatoriale Insigne del Napoli giusto? Immobile del Napoli pure? Allora Immobile è di di Napoli di Torre Annunziata sto proprio guardando ora da Wikipedia perché devo essere sicuro ma gioca nella Lazio ora e non credo abbia mai giocato a Napoli Qual è il club che ci ha dato più giocatori? E qui mi fai una domanda che mi cogli un po' l'impreparato però ne abbiamo avuti parecchi in realtà ho preso un po' del Sassuolo ma era una nazionale abbastanza equilibrata come provenienza quindi c'era qualcosa dall'Inter e dalla Juve e dalla Roma anche insomma e anche dal dal Napoli dove gioca Insigne di cui abbiamo parlato e città di dove originario immobile e anche io se devo dire la verità ma non dico che mi aspettavo di più però speravo qualcosa di più immobile come dire è sempre stato un po' è stato caricato di tante aspettative come attaccante come Insigne un po' come Insigne e con la differenza però che secondo me Insigne ha il potenziale per a volte magari sbloccarla a volte fare la giocata a volte risolvere poi questo europeo penso sia andato bene comunque assolutamente però insomma come dire gli si può un po' caricare secondo me qualcosa nella speranza che se il giocatore chi risolve immobile secondo me è un ottimo giocatore per la Serie A dove è stato anche capocannoniero ha anche vinto la Scarpa d'Oro che è un torfeo calcolato con un coefficiente di gol però un torfeo europeo quindi qui è stato il miglior attaccante d'Europa però ha bisogno di giocare in un certo tipo di squadra come può essere stato come può essere la Lazio come può essere stato il Torino e quindi non è il bomber non so come dire la Bobo Vieri per fare un paragone e spesso come dire se il nazionale secondo me gli si è cercato di dire beh lui è quello che ci sembra il più forte quindi deve essere quello che ci fa una svalangata di gol non è così immobile non può vivere questo peso quindi probabilmente insomma nella speranza di tifoso si spera sempre che sia quello che è invece invece gli chiedevamo troppo ma comunque ha fatto il suo bello europeo anche lui ecco insomma battiamo le mani allora ti chiudiamo così se ti va bene il tuo giocatore preferito nome di questo europeo di questo europeo guardi io vado sul sicuro e ti dico Federico Chiesa lo sapevo porca miseria me l'immaginavo perché probabilmente tu mi conosci quindi sai che apprezzo la tipologia di giocatore umile che non è sopra le righe che comunque cerca di conquistarsi il suo spazio anche se è figlio d'arte quindi con un'ombra di un attaccante fortissimo in Serie A che ha fatto tanto però si crea il suo spazio realizza i suoi gol fa le sue belle giocate e anche nella finale di ieri insomma l'abbiamo visto tornare in difesa diverse volte sì è un'energia incredibile fare pressing lottare insomma un giocatore che si spende che non ha paura e quindi insomma a me ha emozionato un po' questo giocatore anche a me sono d'accordo poi ha questi tratti del volto che dovrei far tornare di voga i testoni dei giocatori perché ha questi tratti un po' pronunciati del volto quello che è che mi ricordano un po' quando noi avevamo come dire come si chiamavano avevamo i giocatori con la testa gigante come ah sì 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 erano quelli fatti dalla IP che col pieno di benzina regalava questi pupazzetti non li fanno più per Italia 90 erano nati tra l'altro no no credo che non li facciano più chissà se torneranno chiesa barbaresi sì come dire un volto normale non è il belloccio ecco esatto il volto è nesta sì messo un po' da pop star no come bene o male l'era Beckham ci ha insegnato c'è cui degli anni avanti in poi c'è il calciatore diventato anche icona anche pop star e non solo per quello che facevi in campo ma anche fuori quindi chiesa assolutamente per carità come hai detto tu insomma vogliamo anche bel ragazzo però non è il volto appariscente non è il modello non è che figo ho i poster di chiesa come magari uno si va di Borriello ecco perché Borriello era bello a prescindere chiesa se è figo è figo perché perché in campo fa sognare quindi le ragazzine vengono attratte da 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 quello che nasce in campo e quindi nasce un sogno di ma non è il modello bello a prescindere è proprio un animo operaio se vogliamo ho messo e il gol con l'Austria quello con questo stop di faccia arpionato favoloso è veramente il simbolo di un senso del gol e comunque di un gesto tecnico che getta al cuore oltre l'ostacolo a poter chiedere così sì ha fatto delle salite con dei dribbling favolosi molto affiato il mio giocatore preferito sempre per una per una serie di cose come ha detto Atti che lui vede nel suo giocatore preferito che poi c'è un mondo di idee di messo insieme sulla condotta nel campo tutto un misto di cose a me magari non il mio non so se è il mio calciatore preferito però mi è piaciuto moltissimo Barella perché perché molto spesso non sono soltanto dei meriti il fatto che mi sembrava un bambino che giocava in piazza a calcio cioè proprio la stazza di Barella questa espressione è un po' dalla mente lo so questa faccia questo labbro che faceva ridere poi avrei scoperto dopo che lui è cresciuto a Cagliari io lo so con coincidenza tra l'altro non lo so mi sembrava di vedere un bambino che giocava in piazza nel campo dei rupei e quindi portava tutti questi stereotopi del ragazzino in piazza e della palla che va sulla macchina e mi è piaciuto un casino una cosa del genere si potrebbe dire su Insigne che è il bambino nella piazza però anche su Immobile si potrebbe vedere però come dire quello che va a Barella aveva portava l'innocenza di queste cose qua non lo so poi magari non lo conosco non so nulla di questo giocatore lo sto dicendo per delle prestazioni lui ha giocato bene secondo me e mi è piaciuto quello che mi comunicava a livello di stereotipi di cose di idea di aurea che aveva non lo so ti è piaciuto Barella? si 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 ha fatto anche lui il suo il suo bel europeo di sostanza alla fine non c'è stata credo da parte di nessuna poi il motivo per cui la fine secondo me siamo arrivati alla fine non c'è stata nessuna voglia di apparire nessuna situazione sopra le righe nessun spesso la stampa come dire monta dei casi del ballottaggio il testimone le cose in cui non so la staffetta il baggio del Piero il del Piero Totti queste cose qui e invece ognuno credo abbia fatto il suo senza individualismi senza cose e Barella un europeo di sostanza di qualità e sì credo c'è stato questo spirito ma guarda non è tanto un modo di dire secondo me lo si può veramente ritrovare guardando ci vorrebbe del tempo un'analisi fatta bene però in tante partite se vogliamo possiamo prendere l'Italia ma possiamo prendere delle squadre di club anche però nelle nazionali forse si raggiunge un qualcosa di più vedere tanti momenti a palla ferma uscita dagli spogliatoi o scambi o momenti prima di un tempo supplementare prima di un calcio di rigore vedere la serenità i sorrisi le pacche gli scambi e in questo effettivamente l'altra nazionale con cui ho visto questi momenti qui è stata quella famosa del 2006 dei mondiali spesso si vede una nazionale magari anche vincenti non è che si vince soltanto con i sorrisi ci sono squadre di gente che magari ha dei contrasti forti non si parla non c'è unione però le individualità sono talmente forti che i giocatori messi in campo bene si risolve e vabbè mi stai sul cazzo ma non me ne frega niente vinciamo e quando si vince siamo tutti felici siamo in 23 non è che devo per forza bere la birra insieme a te invece questa nazionale guardando tante scene si vede questo questo clima questa serenità questo gruppo e non è finto insomma è un qualcosa di vero tal c'è anche questa serie sogno azzurro di Rai Play che riprende un po' indietro le quinte è chiaro e chiaramente anche qui c'è una regia e quindi eventuali scazzi situazioni pesanti ovviamente saranno stati tagliati fuori ci saranno state forse eccetera però di certe serie banalmente le telecamere non entrano negli spogliatoi cioè in certe situazioni non ti fa neanche entrare perché sanno che è meglio che non entri una telecamera perché c'è dell'imbarazzo dopo quindi già il fatto che una telecamera sia entrata e poi il clima che si è respirato si è visto rappresenta quello che c'è stato quindi come hai detto tu quest'umiltà questa volontà ognuno di mettere il suo al di là che si venisse dalla stagione del Sassuolo o da un Giorginio che ha vinto la Champions League con i Chelsea ecco comunque si è tutti lì si fa il proprio se c'è da fare della panchina la si fa senza polemica ed è andata così quindi Barella è uno degli esempi di questa mentalità grazie 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 per la per la compagnia grazie a te grazie a Barella grazie a Barella grazie grazie anche non abbiamo parlato anche Donna Rumba porca miseria una parola e la potevamo spendere teniamolo per il finale e poi anche quel panico di Pickford che faceva ridere quello tipo di passi ma è lo supportiere inglese posso dire questo su Pickford non mi ricordo prima di quale rigore però Pickford aveva la faccia e qui qui penso che tu possa capire perché ne hai visti anche tanti noi nei pub inglesi inglesi poi prevalentemente di Londra direi perché abbiamo il nostro tempo insieme è stato prevalentemente lì però ne abbiamo viste di facce di personaggi diversi e chiaramente a Londra insomma per quanto facce ride è la città in Inghilterra con meno inglesi però comunque di inglesi ne abbiamo visti io ho proprio visto la faccia di quello che ha preso un due di picche incredibile dalla tipa o lo sta prendendo tipo sta capendo che la tipa ma non la tipa cioè proprio scena che abbiamo visto non la tipa che c'entravano con noi proprio noi le scene più belle secondo me erano da spettatori di queste cose da proprio da antropologia del pub quindi lui ha visto la tipa che magari andrà con un altro sta per andare con un altro lui è mezzo sbronzo però c'ha la faccia di dire sì ma adesso adesso rifaccio adesso però però senza una strategia cioè faccio un casino che ma cosa fai ma poi hai visto e ho proprio visto quella faccia lì quindi la persona in realtà disperata che in cuor suo sa già di aver perso ma non accetta la sconfitta solo che è grave perché in realtà non l'aveva ancora perso quindi aveva l'occhio di chi ha perso un po' la mentalità poi per carità ha fatto le sue parate ha messo il sur ha fatto molto bene hai detto bene tu però ha fatto anche un mucchio di errori stupidi no? sì 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 è un po' perso tipo la palla magari dall'altra parte è tipo rimandata presa da insomma vabbè comunque è un po' quello che dicevamo prima un po' mentalmente adesso è un po' mancata anche gli errori al dischetto è chiaro che c'è tanta fortuna c'è tanto caso però anche lì c'è tanta solidità mentale perché in allenamento sono giocatori che magari sono capaci di segnare non so 97 rigori su 100 però in queste situazioni qui la solidità mentale conta parecchio e qualcuno l'ha persa secondo me ultimo commento perché me le voglio mollare però il commentario la cronaca parlava spesso di Bonucci che parlando di come dicevi tu sangue freddo controllo mentale che contro l'Inghilterra in momenti comunque pericolosi dava un colpo di collo a passare la palla al portiere cos'è te l'hai visto con i tuoi commenti là sì 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 ho fatto un po' io mi sono perso il movimento non l'ho beccato cioè cos'è una specie di testata lì indietro per per passare la palla al portiere una volta per evitare pericoli cos'è che è stata questa roba difficile è un retropassaggio è un retropassaggio il retropassaggio per regolamento è vietato di piede o perlomeno è consentito di piede ma il portiere la può ricevere solo di piede e quindi la deve stoppare poi rilanciare su invece di testa il portiere la può prendere con le mani quindi diciamo che il retropassaggio di testa se fatto bene è importante per il portiere perché può fermare il gioco chiaramente prendela con le mani invece di piede è costretto a rilanciarla subito quindi chi è in grado di fare di buono il retropassaggio di testa è una cosa insomma è una qualità che un buon centrale un buon difensore dovrebbe avere anche perché il retropassaggio di testa sbagliato cioè non è impossibile che diventi un autogol o comunque una situazione che metti in difficoltà il il portiere quindi Bonucci da difensore di esperienza questo insomma tornando a Londra e basta e poi giuro questa è l'ultima ti ricordi il momento con la Spagna quando Chiellini discuteva molto amorevolmente ma eri molto esaltante molto come si può dire beh nella maniera frizzante di Chiellini con con il giocatore discutevano di chi doveva partire con i rigori no? con il come si chiamava il giocatore spagnolo di fronte all'arbitro Giordi qualcosa Giordi Alba potrebbe Giordi Alba facendo stereotipi e non necessariamente facendo lotte tipo i figli italiani sono meglio dei spagnoli non sto dicendo questo e tu non stai dicendo non diresti mai questo però guardando l'atteggiamento di Giordi Alba Chiellini che baccate sulla spalla magari anche un po' presa per il culo non lo so questo atteggiamento un po' strano molto da molto inclusivo molto da fratellone però che non si capisce bene molto esagerato hai visto hai avuto una diapositiva dei spagnoli che abbiamo conosciuto a Londra non sto dicendo è magari dell'italiano stereotipo hai visto un po' di stereotipia perché non esiste come parola stereotipo spagnolo e stereotipo italiano generalizzando non dicendo cosa sia meglio o peggio se si sa fare il tipo però non hai visto un po' di non so come spiegarla assoggettazione un po' spagnola non lo so a te dimmi se sono totalmente fuoristrada no no ma anche io anche io l'ho vista così un po' quasi Chiellini ha fatto lo spagnolo potrei dire nel senso che ho visto molto quel tentativo di maniera simpatica guascona se vogliamo eccetera di un po' di un po' assoggettare di un po' di come dire portare la situazione dalla propria quindi fare il simpatico ma nel mentre cercherò un po' di prevaricare di come dire mettere in condizione di inferiorità l'altro ecco in questo ovviamente Chiellini gli è riuscita meglio vuoi l'esperienza vuoi qualcosa Giornia l'ho visto un po' più teso in quel momento lì mi è sembrato un po' più subire questa situazione per quanto chiaramente si parla di niente perché non è che lì segni il gol però come dicevamo gli aspetti psicologici anche questo poi comunica qualcosa perché i giocatori sono lì guardano insomma e soprattutto i capitani perché erano i due capitani sono quelli che poi devono andare a parlare agli altri devono andare a quindi è molto importante come poi loro arrivano se un capitano in fondo di sicurezza è già assolutamente il capitano per un qualche motivo ha dei cedimenti allora assolutamente sì non ci ho pensato a questa cosa qua i giocatori quelli sotto Giordi Alba e quelli sotto Chiellini quelli sotto Giordi Alba vedono da lontano Chiellini che prende e strizza con con questa simpatia naturalmente che giustifica tutto lo prende lo strizza manate tipo di pacche sulla spalla che sembrano quelle dell'esercito tipo dei scherzi o quello che è però mascherati bene hai detto benissimo ha un effetto sui giocatori quasi di assoggettazione sì 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 ma spesso in quel momento lì in cui i giocatori durante i rigori appunto a fase finale di una partita che finisce ai rigori i giocatori per regolamento devono stare non oltre il cerchio cioè la linea del centrocampo è il cerchio di centrocampo quindi questo tondo che si propende non so se sto dicendo bene verso la porta avversaria non possono andare oltre quindi sono tutti lì concentrati spesso si abbracciano stanno insieme quindi in quel momento lì è molto importante quello che ci si trasmette l'un l'altro perché se tutti insieme arriva il giocatore che ha appena segnato un rigore quello che l'ha appena sbagliato quello che lo sta per tirare ci si influenza tutti a vicenda quindi un atteggiamento sbagliato di un singolo in quel momento lì si può guastare un po' la situazione quindi in questo sicuramente insomma avere un Chiellini che è rientrato trionfante dopo aver preso a scappellotti amichevoli Giordi Alba può si può aver dato questo podcast mi ha fatto pensare che dobbiamo tornare a parlare di calcio prima o poi di nuovo avremo occasione sicuramente volevo ringraziarti di nuovo questa volta salutiamo tutti penso che ci ci risentiremo presto per un altro podcast grazie mille ma grazie a te è stato un piacere parlare di queste notti magiche europee e di film e di tutto quello che poi ho rotto intorno al calcio grande metafora di vita e grande così grande passione da poter seguire anche senza capirne un cacchio perché il calcio non deve essere soltanto di chi ne capisce ma anche di chi come me in primis che poi insomma oggi ho dovuto fare io ho fatto le veci dell'esperto ma giusto perché Fabrizio ne sa meno che me però in realtà anch'io non ne so un cacchio sono sembrato un pippone uno scarpazzone come si dice modesto modesto ok allora grazie grazie Atti ci sentiamo presto ciao e grazie a voi forza Italia forza Azzurri forza Campioni Europei ciao ciao